Ci troviamo nella sala del trono del Palazzo Reale. Era un salotto per i Durazzo, era il salotto di Luca Giordano perché qui si esponevano tre grandi tele del grande pittore napoletano. Due sono ancora qua, sono la contesa tra Perseo e Fineo sulla parete ovest e sulla parete est invece Olindo e Sofronia vengono messi a rogo. Una delle molte storie raccontate da Tasso nella Gesù Cazalame Liberata che diedero spunto ad artisti per soggetti di pittura. La sala, come dicevo, fu realizzata nel Settecento, nella prima metà del Settecento, negli anni Trenta del Settecento dei Durazzo e di quella fase possiamo ammirare ancora gli stucchi sulla volta con questi grandi satiri e satiresse che probabilmente un tempo non avevano questa doratura così pesante e avevano probabilmente della policonomia che poi fu soppressa dai Savoia quando invece negli anni Quaranta dell'Ottocento trasformarono il salotto di Luca Giordano nella Sala del Trono. E si fece venire da Torino questo velluto rosso-cremisi molto bello e la sala fu completamente trasformata secondo il gusto del momento. È un gusto eclettico tardo-barocco che impronta sia la decorazione a stucco che quella a legno intagliato, soprattutto delle porte, delle grandi cornici e anche del baldacchino del trono. Il trono è stato realizzato ancora da Henry Peters, l'ebanista inglese al servizio della Real Casa, mentre la balaustra attorno al trono arriva dalla reggia di Torino e un tempo decorava la sala del trono della regina di quel palazzo. La sala del trono, come ho già detto, viene ripensata completamente negli anni Quaranta dell'Ottocento quando l'intero palazzo viene trasformato dalla Real Casa per assolvere a funzioni che in passato non aveva avuto, quello appunto di accogliere una corte, di accogliere soprattutto il protocollo della Casa Reale che prevedeva luoghi come certamente la sala del trono che non esistevano prima. E anche la prossima, dove vi sto accompagnando, la sala delle udienze del palazzo assolve proprio a quel tipo di funzione. Seguitemi. Grazie.